La Civiltà Cattolica presenta Abitare nella possibilità La taverna di mezzanotte di Leonardo Vezzani A Shinjuku, uno dei quartieri di Tokyo, c'è una piccola locanda che apre solo dalla mezzanotte fino alle sette del mattino. Ha solo un piatto nel menù, ma tutti sanno che, se possiede gli ingredienti, il cuoco prepara tutto quello che i clienti gli chiedono. In questo ristorante, dove a malapena entrano una decina di persone, sono ambientate le storie autoconclusive che sono raccolte nei 22 volumi del manga, ancora in corso di pubblicazione La Taverna di Mezzanotte, di Yaro Abe. La locanda non ha una clientela specifica, ci si può trovare un membro della Yokuza locale, la criminalità organizzata giapponese, una sfogliarellista del Knight lì vicino, un operaio che prima di tornare a casa si ferma a farsi un ultimo bicchiere, una coppia di anziani e moltissime altre persone. Tutti sono benvenuti e questo permette che si crei una strana ma profonda complicità tra gli avventori, che dura il tempo di consumare il proprio pasto. Ogni episodio ha il nome di un piatto della cucina giapponese, ma il cuore delle storie non è il cibo in sé, ma piuttosto il valore affettivo del piatto per la persona che lo ha ordinato. Ogni pietanza richiesta al cuoco evoca ricordi dolorosi o persone che si sono allontanate, come se mangiando si volesse mantenere viva quell'esperienza con il carico di bene e di male che essa porta con sé. Gli eventi raccontati a volte hanno un lieto fine, ma più spesso no, un po' come la vita che tutti noi affrontiamo e in queste pagine leggiamo. I disegni, nella loro semplicità, sono molto espressivi. A differenza della gran parte dei fumetti, con linee essenziali si delineano volti di persone normalissime, quasi insignificanti. Ogni racconto ci offre la possibilità di sbirciare nella complessità interiore dell'uomo e della donna qualunque, quelle persone di cui non ci accorgiamo nemmeno quando camminiamo per strada. In un tempo in cui gli show gastronomici hanno portato il perfezionismo anche in cucina, la taverna di mezzanotte ci mostra come il mangiare sia anche, e forse soprattutto, un'esperienza di memoria e profonda intimità. Grazie. 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 Grazie.